Stamane i carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emesse dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri a carico di 13 persone ritenute responsabili a vario titolo dei delitti di associazione tipo mafioso, estorsione, illecita concorrenza con violenza o minaccia e danneggiamento aggravati dal metodo mafioso o dalle finalità mafiose e induzione in debita a dare o promettere utilità I destinatari delle misure sono Evalto Giuseppe classe 63, Paviglianiti Antonio classe 65, Anello Rocco classe 61, Enrico Giuseppe classe 54 Ielapi Romeo 72, Mancuso Pantaleone classe 61, Trapasso Giovanni classe 48 per i quali è stradisposta alla custodia cautelare in carcere D'Agostino Domenico Fedele classe 58, Scalfaro Francesco classe 59, Di Palma Riccardo classe 72 E ancora Fuoco Mario classe 51, Giardino Giovanni classe 72 e Scognamiglio Mario classe 77 Per questi sono stati disposti gli arresti domiciliari Il provvedimento costituisce l'esito di un'articolata attività di indagini avviata nel 2012 dal nucleo investigativo dei Carabinieri di Reggio Calabria sotto la direzione della locale direzione distrittuale antimafia L'indagine ha permesso di accertare la sistematica infiltrazione da parte di alcune blasonate consorterie dell'Andrangheta nel complesso delle opere necessarie alla realizzazione dei parchi eolici in territorio calabrese e segnatamente nelle province di Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone e Vibo Valencia Le attività investigative prevalentemente di natura tecnica hanno permesso di documentare l'invasivo condizionamento esercitato dalle cosche in particolare i paviglianiti di San Lorenzo e Bagaladi, i mancuso di Limbadi, il trapasso di Cutro e gli anello di Filadelfia attraverso una serie di spregiudicate attività illecite di natura prevalentemente estorsiva dagli approfondimenti svolti dai carabinieri, emerso in particolare il ruolo ricoperto da Evalto Giuseppe imprenditore di pizzo calabro del settore trasporti, ritenuto affiliato e mancuso di Limbadi in quanto contemporaneamente imprenditore e collettore degli interessi delle consorterie rappresenta una figura cerniera, riferiscono gli inquirenti, in grado di relazionarsi con le due realtà e di riuscire ad imporre alle società impegnate nella realizzazione dei parchi eolici l'affidamento a favore di ditte colluse o compiacenti. Le indagini hanno fatto luce su numerosi episodi estorsivi sia in danno delle società multinazionali impegnate nella realizzazione dei parchi che sottostavano all'imposizione del pagamento del pizzo liquidando alle ditte segnalate dai valto compensi per prestazioni sovrafatturate o mai eseguite sia in danno delle imprese appaltatrici non colluse. Gli impianti su cui si sono focalizzate le attenzioni degli investigatori sono quelli di Piani, di Lopocampi, di Sant'Antonio, nella provincia di Reggio Calabria, il parco eolico della provincia di Catanzaro e ancora il parco eolico di San Biagio e quello di Cutro, nella provincia di Crotone. Alla luce delle complessive risultanze investigative insieme alle misure cautelari personali è stato eseguito anche il sequestro preventivo delle società riferibili agli odierni indagati ovvero l'autotrasporti FSRL con sede a Pizzo, la Molisana Trasporti SRL, Paviglianiti SRL con sede a Reggio Calabria, Dittagli e l'Alpi Romeo e ancora l'Iponion Global Security Service e l'hotel Ulisse, sito in Maida.